Questa tua esperienza, poi la motivazione, noi realmente giornalisticamente la sappiamo. Cosa ti ha lasciato? Visitare luoghi come Aleppo o altri luoghi insomma sul fronte di guerra? Sì, in realtà io non sono stato nella città di Aleppo, sono stato nella provincia di Aleppo, nella città di Membic, nella regione di Sheba, dove abbiamo condotto questa offensiva quest'estate che serviva a tagliare le comunicazioni tra lo Stato Islamico e la Turchia. Ed è stata poi l'operazione che, avendo avuto successo, permette oggi l'offensiva su Raqqa che dovrebbe, si spera, mettere la parola fine all'esistenza dello Stato Islamico in Siria. E quello che questa esperienza mi ha lasciato è sicuramente la consapevolezza del divario incolmabile che attualmente esiste tra le vite nostre, di europei, e le vite delle persone che vivono in Medio Oriente costrette a subire livelli di povertà che non avevo mai neanche concepito nella mia vita e livelli di sofferenza incredibili dovuti alla guerra o di oppressione dovuti ai regimi di quei paesi, in particolare in Siria. Parlo sia del regime siriano che dello Stato Islamico, davvero che credo nessuno di noi potrebbe neanche immaginare. Quindi diciamo che sono tornato molto preoccupato su quelle che sono le prospettive del mondo di oggi perché ci sono pezzi di popolazione mondiale che vivono condizioni talmente diverse che ciò può essere molto problematico per il futuro. Qual è la cartolina di questo viaggio che ti è rimasta più in mente, più impresso? Non so cosa tu intenda come cartolina, diciamo che forse è la cosa che mi è rimasta più impressa è proprio il fatto per la prima volta nella mia vita di essere stato fuori dall'Occidente, di vedere l'Occidente dall'esterno e quindi anche la nostra cultura spettacolare dall'esterno, essere sradicato dalla nostra cultura basata sulla finzione, sull'immagine, sull'immaginazione delle cose. Quindi quello che mi è rimasto è proprio il fatto di non poter ridurre in alcun modo nessuna mia esperienza una cartolina, contrariamente a tutti gli altri viaggi che avevo fatto anche in posti lontani dove però non avevo vissuto questa situazione di una cultura completamente diversa, quella europea. Come ti muovevi? Nel senso eri da solo, eri in gruppo? Com'era la giornata, se poi giornata tipo, diciamo sempre brutto dirlo? Ma intanto io all'inizio ho fatto un reportage giornalistico dalla Palestina, dalla Turchia, dall'Iraq e dalla Siria del Nord e in quel periodo mi muovevo sempre assieme ai militanti delle rivoluzioni o delle resistenze laiche e ugualitarie che ci sono in questi rispettivi paesi e che io con cui avevo preso in contatto già in precedenza. Per quanto riguarda invece il periodo in cui sono stato nelle forze siriane democratiche, arruolato nelle IEPG che sono le unità di protezione kurde che appunto adesso sono coordinate anche con battaglioni arabi e cristiani nella Siria del Nord e la vita quotidiana era una vita militare quindi io mi muovevo sempre con la mia unità e sempre ovviamente in maniera coordinata come un soldato. Hai temuto? Parliamo di una situazione che è quella del luogo più violento del mondo, del fronte più violento nella guerra civile siriana che è quello tra le IEPG e lo Stato Islamico, quindi parliamo di un fronte in cui si avversa una forza come l'ISIS che non accetta e non segue nessuna regola dal punto di vista della guerra, dal punto di vista umanitario, del diritto di guerra, del diritto internazionale, quindi diciamo che da un lato se si ha paura di morire o se si esclude l'ipotesi di morire non è possibile arruolarsi in queste forze, quindi ho messo in conto di rischiare e sicuramente a nessuno fa piacere questa prospettiva, però d'altra parte devo anche dire che lo Stato Islamico che conosciamo noi attraverso la cultura spettacolare è appunto questo mostro astratto che è lo stesso Stato Islamico di aver creato volontariamente per spaventarci, poi quando questi miliziani li si vedono in carne e ossa in una situazione del fronte, sono soltanto degli esseri umani con tutte le loro paure, i loro limiti, i loro problemi che tra l'altro stanno perdendo questa guerra. Hai mai parlato con uno appunto dell'ISIS? No, essendo nemici in una situazione di guerra non si parla, purtroppo si spara, quindi non mi è mai capitato quello che sicuramente mi è capitato è sempre di ascoltare più che altro delle loro voci questo urlo all'Awakbar che loro utilizzano nonostante non gli appartenga a livello come dire religioso perché è un'espressione che riguarda tutti i musulmani e non certo solo la minoranza che sostiene l'ISIS però loro sempre urlano questa frase per farsi coraggio perché questa frase in realtà non vuol dire Dio è grande ma vuol dire Dio è più grande, quindi loro cercano di autoconvincersi che Dio riuscirà a essere più grande, dei rischi che loro corrono e delle difficoltà che loro hanno e lo fanno anche per terrorizzare il nemico perché sanno che il modo in cui loro pronunciano questo grido è particolarmente inquietante al punto che io e altri combattenti internazionali delle YPG abbiamo teorizzato che loro abbiano delle scuole in cui si allenano a urlare all'Awakbar in questo modo per spaventarci, questo ovviamente lo dico scherzando ma la realtà appunto che al di là poi della forma in cui queste persone si presentano c'è la sostanza di banditi e persone senza dignità che per fortuna in questo momento vengono ormai quasi cancellati dal territorio siriano Le ultime domande, ti sei trovato davanti a morti, insomma hai visto con i tuoi occhi quello che accadeva è un ricordo che pensi di dimenticare in qualche modo o ti accompagnerà sempre? Io appunto sono stato cinque mesi nelle forze siriane democratiche, ho partecipato all'offensiva a ovesta delle Eufrate di cui parlavo prima, questa offensiva è durata due mesi e mezzo, ha causato circa un migliaio di morti nelle nostre fila, diverse migliaia di feriti e mutilati, è stata un'esperienza terribile per tutti quelli cui vi hanno partecipato benché sia stata una offensiva giusta e necessaria tutti i particolari su quello che è successo sarebbe totalmente inutile, anzi sarebbe dannoso riferirli perché darebbero l'illusione ai telespettatori, agli ascoltatori, ai lettori di potersi immaginare che cos'è uno scenario del genere, mentre invece purtroppo io ho imparato che solo chi attraversa questo scenario può lontanamente, come dire, può insomma comprendere la guerra, non è qualcosa che si può raccontare.